bello a tutti ragazzi, bentornata di QG di campagna in un nuovo video come avete potuto vedere dal titolo siamo su FIFA 19, la demo per provarla insieme è bella questa cosa di giocare la Champions voglio andare a provare la Roma Roma contro Real Madrid dato che siamo prima Champions no, esordiente no campione, va bene Jaco Bernabeu andiamo a vedere le formazioni siamo in Clima Champions quello che dovrà succedere in Champions lì c'è Strootman che è una cosa che non posso neanche guardare quelle grigi ci sta anche perché non c'è Zonzi da quello che ho saputo accertiamocene ma infatti è niente Koric 76 Marcano al posto di Fazio eh sì sì è un po' più veloce sempre relativamente dato che sono lentissimi Watson no Mirante voglio vincerla amica voglio giocarla con i veri giocatori se stessi facendo un pronostico gameplay allora sarebbe con i giocatori di doari anche perché non lo potrei fare dato che non c'è Zonzi e il flaco bello allora da quello che ho potuto vedere sapere sapere il gioco è strambo quindi vedremo non so che dire bellissima non so perché l'ho l'ho schippata però bello si aspetta devo togliere il trailer il trainer come cazzo si chiama è veramente bella veramente bella anche la graffita bello eh vabbè che gol di Karim Benzema cross di bello rete di Benzema ma zero reale pastore pastore marcello marcello per la palla cross marcello cross veramente strano il gioco sembra più fluido dal momento di di palla ora bellegri per Florenzi aspetta di andare al cross la palla rimane dietro i passaggi sono veramente strani sono veramente strani i passaggi di questo gioco cross isco marcan non esce molto bene e va da Klybert uh questa è una bella idea invece per il gioco bella così no vai a Klybert allora Benzema la stoppa cioè se non sei vicino al gioco Dracula devi passare il passaggio viene sminchiato eccolo qua bella per minante forte e chiaro da Pley uh Klybert chiude questo forse è bello gattivo per qua verso Madrid devi chiuderlo devi chiuderlo allora Bale scagna a mezzo ma Bale è troppo forte troppo forte Bale cross due per un secondo una senso sbaglio per tutto di testa bella guarda i testi che sembrano parecchio bagliati guarda queste passaggio cioè io non li posso vedere queste cose mezzamano Bale Madrid cross esce Manolas non benissimo cross tiro mirante rischio può ripetterla dentro sul secondo mette via non benissimo coloro ora si l'ora dei rossi ma è una cosa senza senso questi nuovi passaggi Bale ma vedi tu che se devo sclerare la prima partita di Pia Bale al cross mirante di rossi buona roba casemiro menzema cerca di andare da Isco ma la chiusura il passaggio non si fa non si fa non esistono i passaggi in questo gioco menzema 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 va solo marca non lo marca dentro Bale è solo è solo dov'è la difesa corrigiato corrigiato no due no due dove è la difesa non bene non bene non bene non bene non mi sta pegando il gioco non ho fatto un tiro in porta veramente scandaloso scandaloso che gioco di mare si vabbè ahhh peccato Bale dietro la cosa mia un gol lo vorrei fare però mi ha fatto un tiro in porta perché dovrei fare un gol Bale calcio bubble cross può andare dentro eccolo battere mirante ma che col petto grande azione dunque bel cross all'indietro un po' di dubbi su questo tiro ah no con la testa c'è grafica perfetta e poi non sai fare un colpo di testa oh arriva questo è un porto risco Bale Benzema chiudi no dai che sei veloce mirante Marcano e tu se la gente mi devi chiamare mentre registri ancora tre la tre mentre Asensio per Bale Asensio Carvacal lungo per Asensio però sul primo mettila via no devi sapere perché la prendono sempre di petto mi scopi non mi sembra Marcello ma guarda tu niente i tiri così baggati l'anno scorso non esiste poi perché la telecrana cava dietro dai appoggiala subito dai flollo non ci sono no non ci sono Marcello cross è un gioco veramente strano è veramente un gioco strano che bisogna conoscere a mio avviso la prima partita ci sta oh un der Dzeko non è un pari gioco oh è fallo è fallo calcio di rigore non so come si batte cioè spero si batte nel momento calcio di rigore vabbè come sempre ok De Rossi ma che scandalo ma cosa ma rimetti la dentro ho fatto il passaggio non c'è dovevo stoptarlo manco sul rigore madonna manco la gioia di un gol sul rigore ma di che stiamo parlando poi è volato esiste un portiere che fa certe parate sul rigore ho capito se la palla è un po' troppo alta perché mi hanno l'ottura troppo potente non esiste che un portiere arriva così però sto iniziando un po' a capire i meccanismi rispetto al prima Clivert pastore va a girare gross si troppo tardi ho sbagliato perché ho visto male l'inserimento di un gioco e poi io cerca di andare vai no ma che cazzo vabbè 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 finisce così l'impressione come questo il gioco non è fluido è fluido scusate i passaggi non mi piacciono per nulla perché su fifa dovevi indicare giusto il passaggio la palla ti andava quest'anno non è per nulla così quindi sono tutte sensazioni negative praticamente a parte il gioco fluido che vi ho detto bisogna abituarvi abituarci però niente ragazzi vi dite un like passate su instagram mi raccomando i link in descrizione no forse no non credo lo metterò perché dalla play vabbè vabbè grazie a tutti del supporto grazie a tutti bella a tutti raga grazie a tutti